I penalisti calabresi hanno proclamato l'assenzione dalle udienze per il 20 luglio prossimo in segno di protesta contro la spettacolarizzazione del sistema giustizia nella regione. E ormai quotidiana si afferma in un documento del coordinamento delle camere penali calabresi la concentrazione mediatica rivolta esclusivamente alle cosiddette maxi operazioni, veri e propri bastimenti in cui vengono ammassati esseri umani considerati e trattati come presunti colpevoli. La spettacolarizzazione del maxiprocesso si legge ancora nel documento ha raggiunto in Calabria la più elevata e inimmaginabile vetta con la recente diretta televisiva delle richieste di condanna nel processo rinascita Scott. E ancora nel medesimo documento si afferma inoltre che l'utilizzo di tale forma di mediaticità della giustizia calabrese rappresenta una vera e propria arma di distrazione di massa che impedisce all'opinione pubblica di conoscere il reale stato della giustizia penale nella regione e nello specifico del distretto della corte d'appello di Catanzaro in cui in vero continuano i penalisti si assiste alla concreta demolizione dei diritti dei cittadini indagati e imputati che formulano istanze di libertà nonché dei cittadini che sono stati sequestrati dallo Stato ossia le persone che sono state ingiustamente detenute mediante provvedimenti giudiziari che si sono rivelati sbagliati.